Il periodo di non belligeranza L'Italia è entrata in guerra il 10 giugno del 1940. Tra questo primo settembre e il 10 giugno del 1940 l'Italia non era assolutamente in guerra. Però sono morte comunque degli equipaggi perché c'era la guerra e quindi c'erano in particolare dei campi minati che non facevano differenza tra belligeranti o non belligeranti. In circolazione in quel periodo c'erano 200 navi mercantili italiane che avrebbero dovuto navigare col tricolore sulle fiancate proprio per farsi riconoscere e non bombardateci che noi non siamo ancora, anche se si sapeva che saremmo entrati in guerra prima o dopo, non bombardateci. La prima nave che ebbe la sfortuna di finire su un campo minato era di Genova e si chiamava Grazia. Aveva caricato carbone in Scozia e doveva trasportarlo a Venezia. Accade che nello stesso periodo appunto i tedeschi erano andati a minare le coste inglesi e gli inglesi imponevano alle navi che passavano nelle loro acque un pilota. Allora, ho detto, il primo bastimento a fare questa fine fu il genovese Grazia che navigava nei pressi di Dover, viaggiava appunto carico di carbone, come ho detto, e la domenica 19 novembre il mare era agitato. Il pilota inglese che era salito a bordo consigliò al comandante di viaggiare sotto costa, ma alle 11 mentre in plancia si trovava il comandante che era il genovese Giovanni Raimondi e questo pilota inglese, inoltre c'era il secondo ufficiale, il timoniere, avvenne una forte esplosione, si verificherò un'esplosione e fu chiaro a tutti che erano finiti su un campo minato. Erano mine magnetiche che si avvicinavano inesorabilmente diciamo alla nave e soltanto successivamente gli inglesi capirono il funzionamento e trovarono un sistema per non farle avvicinare alla nave. Non so il sistema però insomma lo trovarono. Però qui il sistema, anzi fu proprio, lo studio partì proprio dopo l'affondamento di questo Grazia qui. Che cos'era la preoccupazione a bordo? Di dare l'allarme. Però fu impossibile perché la sirena, viaggiando sotto costa avrebbero dovuto sentire, la sirena non funzionava. Né era anche fuori uso il sistema di segnalazione col marconista. Che cosa successe? Successe che il comandante disse di andare a Poppa dove c'erano le due scialuppe di salvataggio e cercarono di metterle in mare. Ma nel frattempo ci furono diversi contrattempi. Il capo macchinista capì che mettendo in mare le scialuppe e girando ancora l'elica avrebbero potuto essere attirate dall'elica e finire frantumate. Allora dovetero andare in macchina, in sala macchina a chiudere, a spegnere i motori. Poi sempre lo stesso capo macchinista vuole andare a recuperare in cabina l'unica fotografia della madre che aveva. Nel frattempo avvenne una seconda esplosione e poi mentre mettevano le scialuppe in mare una terza esplosione. Questo che cosa procurò? Che otto membri dell'equipaggio finirono in mare. Nel frattempo aerei inglesi sorvolavano la zona proprio per controllare e con fumogeni riuscirono ad avvertire terra che era successo questo naufragio qua. Da terra arrivarono due cacciatorpedinieri e salvarono i membri dell'equipaggio. 16 erano su una scialuppa, 8 sull'altra e 8 in mare. Di questi 8 se ne salvò uno solo e gli altri furono poi raccolti praticamente successivamente e tumulati in Inghilterra. I membri dell'equipaggio furono ospitati da una mutua marinara inglese, furono ospitati per alcuni giorni e poi vennero trasferiti in Italia. E' una storia banale diciamo perché nella guerra poi ci furono tanti di questi casi, scoppiata la guerra infiniti, ma tra gli altri naufragi, cito i nomi delle navi che successivamente furono danneggiate, affondarono per i campi minati, c'era il genovese Comitas, uno che si chiamava Traviata, Giorgio Holsen, Maria Rosa, Tina Primo e Foscolo. Quindi il numero di queste navi fu notevole nel suo complesso e già prima di entrare in guerra la marina mercantile poteva contare un decino di morti. Ottima storia Marco, grazie, perché no? Allora alla prossima settimana. Alla prossima settimana, buona settimana a tutti.